Capitolo 2 La sera il gavinai si sentì un'altra volta dentro quella solitudine che pareva senza fine, mentre subito dopo mangiato gli si acuiva sempre l'angoscia come di aver quasi turbato la sua giornata senza provarne nessun piacere. Ma ora a tutti i costi voleva conoscere la sua solitudine e certo somigliava ad uno che si mette fisso a guardare un muro per capire che cosa c'è dentro. La voleva conoscere senza odiarla, anzi francamente quasi con amicizia. Vi trovava sempre quell'indicibile senso di cose che restano sconosciute alla nostra anima. La solitudine era buona, ma sentiva anche che la sua giovinezza vi si consumava e che non gli sarebbe stato mai più possibile tornare indietro qualunque cosa gli fosse avvenuta nella vita. Gli parvi ormai che la giornata fosse stata troppo lunga, ma non si decideva a chiudersi in casa. Era anche sicuro che non avrebbe dormito. Non aveva voluto andare da Albertina, benché avesse pensato molto spesso a lei. Voleva lasciare anche quel sentimento, benché fosse la sua sola dolcezza. Mentre a tutti i costi tentava di trovare tra sé medesimo e Roma come una pacificazione quieta. Quando non aveva nemmeno le curiosità faticose dei primi giorni, si imponeva di conoscerla come la propria città. E andava dove ancora non era stato mai, con una ostinazione quasi metodica, sicuro e lusingato di acquistare un senso di vastità, quasi altezzosa. Passando per la via Margutta, due tavolini, verniciati di giallo all'uscio di un'osteria tra quattro piante di bambù, gli ricordarono che egli non aveva da mangiare. Dentro cantavano, accompagnandosi con una chitarra un po' costonata. Dopo applaudivano. Questi schiamazzi gli fecero provare una viva repulsione ostile e si allontanò più presto. Ma, fatti pochi passi, vide una stanzuccia illuminata ad una luce gialla e tutta una famiglia che appena vi entrava a mangiare. Senza volere guardò due volte, ma con una certa ironia. Sopra il pincio lampeggiava, ma sulla via era stellato. Ad una terrazza avevano acceso due lampioncini di carta a colori e si sentivano voci liete. Egli si fermò ad assicurarsi se erano liete davvero. Non ci credeva. Le cupole delle chiese di piazza del popolo erano illuminate dalla luce elettrica e nei vicoli scuri soltanto il chiaro di luna faceva distinguere le facciate e i muri delle case. Ad un tratto cominciò a piovere, ma smise subito. Quasi sentì correre la pioggia da un capo all'altro della via, dove i gatti razzolavano nei mucchi della spazzatura accanto a un uomo che, con un sacco aperto in mano, vi frugava dentro. Mentre una donna, seduta in terra, con le spalle al muro, smuoveva la bocca, prendendo con la punta delle dita il mangiare accattato da un cartoccio rotto. Pensò che non avrebbe mai potuto adattarsi a fare lo stesso. Quando fu a metà di via due macelli, ricominciò a piovere. Una ragazza con il cappello in mano correva lungo il marciapiede opposto al suo. Ma altre due ragazze andarono a ripararsi sulla soglia di un portone chiuso dove si era fermato. Dentro il salone Margherita c'era soltanto un barlume. Dietro i vetri, che lucicavano per la luce elettrica della strada, i manifesti erano illegibili. Una di quelle ragazze gli mise una mano sulla spalla e gli disse «Andiamo a casa mia». Dario si riscosse, ma non alzò gli occhi. Era curioso di conoscere l'effetto che gli faceva quella voce. Poi si chiese «Perché mi dice così?». E per un momento credette di amarla istantaneamente. Stette lì allora, quasi ad aspettare che ella gli parlasse ancora. E aveva voglia di farle capire soltanto dagli occhi tutta la sua tristezza. Ma non osò. La ragazza respirava forte e certo anche ella aspettava che gli parlasse. Quando invece alzò la testa per sorriderle, scappò a mettersi lungo un altro portone più largo. Egli allora si sentì commuovere. E da dove era, cercava di farle capire che la guardava fisso, mentre sopra le ciglia, quasi dentro gli occhi, gli sgocciolava la pioggia, visibile soltanto attorno alle lampade. Il ricordo di Albertina lo attraversò come un brivido di accio e lo fece tornare in sé. Perché, dunque, non era stato a trovarla se le aveva detto di aspettarlo alla pensione? Egli doveva amarla come era amato. Doveva essere degno della sua purezza. Allora se ne andò. Rasente quasi tutti gli usci. C'erano altre ragazze. Una fumava e di quando in quando si vedeva il fuoco della sua sigaretta. In piazza di Trevi l'acqua della fontana scrosciava e tre uomini dormivano tra le colonne della chiesa di Sant'Antonio. All'angolo di via del Lavatore, sullo spigolo di una casa, c'era una madonna entro un medaglione fiorito, con gli angoli di gesso e una lampadina elettrica che non faceva luce, anche perché era tutta sporca di polvere. E alla finestra accanto un pappagallo che si rigirava smuovendo tutta la sua catena. All'improvviso, all'ultimo piano della stessa casa, una donna nuda si sporse a prendere le persiane per chiuderle. Un carabiniere passeggiava in cima alla salita di via della dataria, sotto il quirinale alto e quasi invisibile nella notte. In camera il gavinai accese la lampadina e si mise a sedere. La sua giornata somigliava a una di quelle gocciole di qualche pozzanghera sporca che schizzano in bocca. C'era dentro un bicchiere pieno d'acqua una rosa che gli parve stupita di essere bianca, tanto il suo pensiero pigliava il sopravvento. L'aveva rubata con Albertina dal muro di una villa, a Montemario. Ma ora non gliene importava nulla, benché la tentazione per la ragazza del marciapiede gli paresse assurda e ripugnante. Si sentì sicuro e tranquillo, grande come la notte, con la dolcezza delle stelle sempre uguali, sempre le stesse. Il sentimento di sé medesimo era in pieno accorto con tutto l'universo. Non gli mancava nulla. Egli poteva pensare a qualunque cosa e mai era separato da esso. Ad un tratto gli parve che la sua anima si mettesse a suonare, ma non percepiva distintamente nessuna musica, come se fosse stato profondamente sordo. Cercò da ascoltare meglio, attese che una nota più bella si chiarisse per poterla ricordare. Attesi con ansia acre, quasi disperata, ma quella larva sparì e non ne restò alcun segno. Pure era sicuro di averla sentita. Ora gli pareva ad essere in una piazza dove non era mai stato. Camminava a passi cadenzati e una specie di fanfara, anche questa inespressa, lo faceva muovere come se danzasse. La piazza era grande e non finiva più. Si allargava sempre, benché restasse uguale. Poi la fanfara si allontanò da una parte ed egli da un'altra e per quanti sforzi facesse non riuscì più a ritrovarla. Avrebbe voluto domandarlo a qualcuno, ma aveva paura che gli rispondessero chissà quale menzogna. Ed egli, allora, pianse. Quando si destò, mancava poco a mezzogiorno. La lampadina era restata accesa. Ed egli, per convincersi che si era addormentato a sedere con la testa sopra il tavolino, guardò lungamente il letto restato intatto.